Che ne pensa di questa manifestazione? Il signore che sta parlando adesso è tutolo. Quindi secondo lei può funzionare il modello tutolo qui a Foglio? Sì, allora sì. Voterà mai nero? Votare mai nero, sì. Può funzionare secondo lei il modello tutolo qui a Foglio? Non vogliono della città, della città che siamo sempre stati. Che ne pensa di questa manifestazione buona, ma davanti a scuola non si fa. Non può funzionare perché davanti a scuola o a Foglio in generale? Il 22 e il 23 di ottobre, se ritenete che Foglio... Che ne pensa di quello che sta succedendo qui davanti a la scuola? Viene da lui, si è governato forse con l'andello, ma... Che i nostri figli restassero a Foglio. Non può funzionare secondo lei il modello tutolo qui a Foglio? Per me no, ci vuole un nuovo rinnovamento. Ci vogliono i giovani, i nuovi. I vecchi hanno mangiato e continueranno ancora a mangiare. Penso che la manifestazione sia sbagliata perché davanti a una scuola o in generale? Per me è sbagliata. Perché qua avanti gli ammini di 90% non lo vuole di rinnovare. Vorremmo che i nostri figli restassero a...